Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi si sono conosciuti quando ancora erano giovanissimi e sono stati insieme nelle gioie e nei dolori. Hanno dovuto affrontare anche momenti complicati, come l'incidente in cui lei è stata coinvolta e per il quale ha quasi perso la vita. La moglie di Benigni ne ha parlato qualche tempo fa in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Vediamo cosa è successo. La Braschi è rimasta coinvolta in un grave incidente che le ha lasciato delle ferite al volto. Si trovava in viaggio con un autista. All'improvviso un raggio di sole ha colpito il guidatore in volto impedendogli di vedere la strada e portandolo a perdere il controllo del veicolo che si schiantò contro un palo della luce. La donna riportò un trauma facciale. La Braschi fu immediatamente ricoverata in ospedale. Fortunatamente l'attivazione degli airbag ha alleviato i danni. Nicoletta durante l'intervista aveva raccontato. Sono stata a un passo, ma proprio un passo dalla morte. Come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l'ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinario che porta in volto i segni delle sue imprese. Ho capito che le cicatrici che ancora porto sono come una carta geografica, sono come le rughe. I segni della vita di cui andare fieri. Benigni e sua moglie si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi nel 1983. Sul set del film Tu mi turbi e si sono sposati nel 1991. Il loro matrimonio dura ormai da 30 anni e non ha mai conosciuto crisi. Nonostante tutto però hanno scelto di non avere figli. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.